Al momento noi non abbiamo ancora aderito. Sì, quando ci daranno il via lo faremo. Aspettiamo che l'epida abbia, che attivi tutta la procedura, ecco. Dovrebbe partire dal 4. Sì, sono partiti alcune farmacie, sono visitate per fare, altre no. Ok, noi non abbiamo aderito. Facciamo il serologico. Al momento sì, facciamo solo quelle gratuiti, perché tra quale pagamento la piattaforma non è ancora pronta. Sono le quali sono gli esperimenti gratuiti che facciamo per studenti e familiari di studenti. Noi non abbiamo aderito, noi, per ora. Perché non abbiamo di spazio a disposizione, poi siamo solamente in due in farmacia e una persona dovrebbe essere adibita solamente a quello, l'altra non riesce a fare tutto, mentre al posto le medicine, a servire al bar. Esatto, sì, per ora sì. Poi se riusciamo a organizzarci, abbiamo volentieri. Grazie. 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 Grazie.